Sono Franco Palamaro di all4shooters.com. Oggi siamo al quarto International RVS Shooting Day che si ritiene alla sede della Ruagammotech a Furt in Germania dove sono prodotte tutte le munizioni e la Ruagammotech a Furt in Germania. Buongiorno a la Ruagammotech a Furt in Germania. Ciao, mi chiamo Björn Friedrich, sono il manager di Mauser hunting rifles. Ciao, mi chiamo Oscar Haugen, sono il CEO di Jira's Rifle Stocks. Ciao, sono Morten Brogmeyer con la company Herkiller. Sono Philippe Nowak, il manager di hunting per Leica Camera. Lo RVS Shooting Day è già diventata una tradizione. Si tiene il giorno prima dell'apertura dell'IVA che è la più grande e importante fiera europea delle armi, degli accessori e delle ottiche per la caccia e il tiro. Qui in Germania. È un evento che non è aperto al pubblico ed è esclusivamente su invito. I giornalisti che sono qui oggi possono provare in anteprima e in esclusiva le armi e gli accessori che le aziende mettono a disposizione sulle linee di tiro della Ruagammotech. Con la possibilità quindi di avere delle impressioni di tiro delle armi che altrimenti non potrebbe essere possibile perché non sono neanche ancora state messe in commercio. Grazie per la visione! 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 I'm Frederic Brozier. Per il momento è tutto dall'RWS Shooting Day. Da all4shooters.com al prossimo anno con il prossimo evento.